Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio. Care sorelle, cari fratelli, care amiche e cari amici, vi do il benvenuto al culto evangelico. Vogliamo raccoglierci insieme alla presenza del Signore. Il nostro aiuto, la nostra consolazione, la nostra speranza sono nel nome di Dio che ci ha creati, di suo Figlio Gesù Cristo che è la nostra speranza e dello Spirito Santo che ci guida e ci accompagna. Amen. Leggo il Salmo 42 i versetti da 1 a 5. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente dov'è il tuo Dio. Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Ci raccogliamo qualche istante in preghiera. Signore, Dio nostro, ti siamo riconoscenti perché in Gesù Cristo, tuo Figlio, ci ami di un amore speciale, senza limiti e senza condizioni. A volte ci capita di non prenderti sul serio, ma tu continui a starci vicino, a darci tempo, a segnare il passo con ciascuno e ciascuna di noi. Perché sei Dio, sei amore. Come la cerva cerca i ruscelli per dissetarsi, placa tu la nostra sete con con il dono della fede e della speranza. Quando siamo delusi, non lasciarci diventare amari. Quando siamo caduti, non lasciarci a terra. Facci sentire il tuo amore. Dacci l'umiltà di metterci in ascolto delle voci dei nostri fratelli e sorelle, di aprirci a loro offrendo il nostro sostegno. Di saper spandere intorno a noi il profumo della conoscenza della tua parola e venire a te con canti di gioia e di lode, per celebrarti ancora nei secoli dei secoli, nostro Salvatore e nostro Dio. A te salga la nostra lode. Amen. Salvatore e di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con di saper spandone a noi il nostro Dio. A te salga la tua parola e rigenerai con tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli iscrivi e i farisei condussero una donna colta in adulterio e fatta la stare in mezzo gli distero. Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono a uno a uno, cominciando dai più vecchi. e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, le disse, «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose, «Nessuno, Signore». E Gesù disse, «Neppure io ti condanno. Va, e da ora in poi non peccare più». Amen. Care sorelle, cari fratelli, cari amiche, cari amici, ricordate le parole della famosissima canzone di Caterina Caselli, «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu?» Sono un'ottima sintesi del racconto che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, se non con la differenza che la prospettiva è spostata da Gesù alla donna. Non giudicare è uno degli insegnamenti di Gesù, quasi un comandamento che troviamo ripetuto più volte nel contesto dei capitoli 7 e 8 del Vangelo di Giovanni. Egli invita i suoi oppositori a non giudicare secondo le apparenze e lui per primo non giudica nessuno. L'Apostolo Paolo richiamerà nella lettera ai Romani questo principio, dicendo «Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose». Nonostante questo, il brano sembrerebbe un'aggiunta posteriore al Vangelo, cioè non apparterebbe alla tradizione giovannea. Questo fatto rende però il nostro racconto ancora più singolare e interessante, intanto perché al centro del racconto c'è una donna di cui non sappiamo il nome e la cui storia personale è balzata all'attenzione dei narratori dei Vangeli. Poi perché l'intervento di Gesù cambia il modo di intendere la legge, introducendo un elemento nuovo, il perdono. Questo infatti parte dal presupposto che nessuno può giudicare perché nessuno è senza peccato da poter scagliare la prima pietra. Che Gesù voglia insegnare qualcosa di nuovo si capisce dalla descrizione iniziale del racconto, secondo cui Gesù stava nel Tempio in posizione seduta, cioè nella postura dell'insegnante, conformemente a un uso diffuso nelle scuole dell'antichità. Infatti, a ulteriore dimostrazione di ciò, gli scribi e i farisei si recano da lui per sottoporgli un caso previsto dalla legge e per vedere qual è la sua interpretazione. In realtà il narratore precisa che costoro vogliono mettere alla prova Gesù per poterlo accusare. Cioè i difensori, a tutti i costi della legge di Mosè, vanno da Gesù con l'intenzione di giudicare e condannare. Si prendono quasi gioco di lui fingendo di riconoscere in Gesù un maestro. La donna era probabilmente sposata ed era stata colta in trasgressione flagrante della legge mentre consumava un adulterio. Ciò che importa nel nostro racconto non è tanto cercare di ricostruire i fatti, individuare i particolari della scena, chi l'abbia scoperta in adulterio, chi sia l'amante, quale sia la relazione col marito, quanto piuttosto accendere i riflettori sulla donna in sé, che infatti viene posta al centro della scena. La domanda posta a Gesù è chiaramente un tranello. La flagranza di reato non ammette interpretazioni di sorta. Gesù non può che rispettare la legge che prevede la condanna a morte, a meno che non intenda usare misericordia verso quella donna, violando così la legge. Si tratta insomma di un vicolo cieco e tale è ogni uso legalistico della legge. Non lascia alcuna possibilità alla grazia di Dio. Ma Gesù non sta al tranello e non intende cadere nella logica senza vie di uscita proposta dagli iscrivi e dai farisei. Lo fa in due tempi e in due modi distinti. Innanzitutto con quello che potremmo chiamare un linguaggio non verbale. Si china e comincia a scrivere per terra. Non sappiamo cosa egli scriva e se quel gesto abbia un significato particolare. La cosa che però si coglie è che Gesù si rifiuta di argomentare secondo le modalità proposte dai suoi avversari. Ciò nonostante, di fronte alla loro insistenza, egli dà la risposta che è divenuta celebre. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quante volte l'abbiamo pronunciata anche noi questa verità evangelica. Gesù cita il libro del Deuteronomio, secondo cui solo il testimone diretto della trasgressione della legge aveva il diritto di scagliare la prima pietra. E con l'autorità che gli è propria reinterpreta questa prescrizione allargando lo sguardo. Solo chi è senza peccato può vantare un tale diritto. Così facendo Gesù non sta travisando la legge né sta arrampicandosi sui vetri. Egli offre invece una corretta interpretazione della legge e ristabilisce il suo vero senso. Infatti chi vuole applicare la legge in maniera così rigorosa, come ad esempio fanno gli scribi e i farisei, deve allo stesso modo applicarla su di sé. E chi può dirsi senza peccato? Solo la superbia e l'arroganza portano gli esseri umani a pensare di esserlo. In realtà, se applichiamo il criterio del rigore, ognuno scoprirà di essere trasgressore di qualcosa previsto dalla legge. Chi accusa diventa subito accusato e deve confrontarsi con il giudizio di Dio. Il grande cantautore Fabrizio De Andrè cantava «Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti». Anche questa volta, la frase di una canzone riassume tutto il senso del discorso di Gesù. Di fronte a questa sentenza di Gesù, nessuno si può più appellare alla legge. E il suo gesto di chinarsi di nuovo e ricominciare a scrivere segna che non c'è più niente da dire. Infatti, i suoi avversari se ne vanno con la coda tra le gambe e la loro dipartita è il segno di una consapevolezza di essere nel peccato. Sul luogo della scena non resta più nessuno se non la donna e Gesù. Agostino di Pona commenta la scena definendo i due come la miseria e la misericordia. Se infatti la miseria rappresenta il passato della donna, la misericordia è ora il suo futuro. A Gesù, infatti, non interessa indagare sulla sua vita e per questo egli si schiera con coloro che non l'hanno giudicata. Questo non vuol dire che il peccato della donna è minimizzato. Ciò che è più importante è scrivere una nuova pagina, riaprire un futuro che poteva rimanere chiuso, ricostituire una relazione nuova con Dio basata sulla fiducia e sulla fedeltà alla sua volontà. Come abbiamo visto domenica scorsa con il profeta Ezechiele, anche qui in fondo Gesù è come se dicesse convertitevi dunque e vivete. Gesù compie un atto di liberazione verso quella donna. Liberata da un passato ingombrante, ora può incamminarsi verso un futuro pieno di promesse. In questo modo si compie anche il senso che ha la legge di Dio per l'umanità, portare alla vita e non alla morte. Anche noi, sorelle e fratelli, dovremmo imparare a non giudicarci ma ad accoglierci. Spesso ci capita di pensare ad altri membri di Chiesa, che magari vediamo poco al culto o alle nostre attività, con un tono di giudizio, additandoli come quelli a cui non interessa la Chiesa o come quelli che non credono in Dio. In questo modo noi ci ergiamo a giudici come gli iscrivi e i farisei e non riconosciamo il peccato che è in noi. Se poi allarghiamo il campo alla società e al mondo, beh, gli esempi abbondano. Come Gesù ha accolto quella donna senza giudicarla, anche noi accogliamoci gli uni gli altri e le altre senza giudicarci. In questo modo sperimenteremo la forza liberante che proviene dal perdono e dall'amore. Amen. Chiesa 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 Vi invito a raccoglierci adesso nella preghiera di intercessione. Pregheremo con le parole del Precatechismo di Torrepellice, che troviamo contenuto nel libretto della Seva. Chiesa O Signore, donaci la saggezza per abbattere i pregiudizi e poter vedere l'altro, l'altra, come mio fratello, mia sorella, e amarlo e rispettarla come merita. Signore, aiutaci ad essere accoglienti, generosi e rispettosi nei confronti di chi è meno fortunato di noi. Donaci il privilegio di poter amare chi soffre. Aiutaci a essere meno intransigenti e permettici di accettare gli altri come sono. Signore, grazie con tutto il cuore per la libertà che oggi viviamo e per la gioia che abbiamo nel cuore. Aiutaci a fare di un semplice gesto una cosa bella. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Per i Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.